Montecchio Maggiore, attimi di terrore questa mattina per residenti e passanti in via delle tasse. Verso le 11 un giovane residente della zona armato con una spranga di ferro ha cominciato a percuotere le auto in sosta e a minacciare quanti gli si avvicinavano. Immediatamente allertate le forze dell'ordine, i primi ad arrivare gli agenti di polizia locale che in pochi minuti hanno cominciato ad inseguire a piedi il violento. Dopo circa un quarto d'ora il giovane che è stato bloccato a terra e ammanettato ha perso i sensi. Per questo è stato trasportato per accertamenti al vicino ospedale dove attualmente è ancora ricoverato. Non si conoscono le cause del gesto. Per l'uomo fuori controllo scatteranno una volta dimesso le denunce per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamenti. Sono stati complessivamente infranti sei finestrini e deturpate due auto.